Sono sospettati di essere scafisti due tunisini di 45 e 55 anni sbarcati giovedì mattina nel porto di Salerno dalla nave mercantile BBC Age insieme con 181 migranti. Sono stati sottoposti a fermo dalla squadra mobile e dalla Guardia di Finanza di Salerno e condotti alla casa circondariale di Forni. Sono accusati di organizzazione e gestione dell'illegale ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri. Dai controlli effettuati dagli agenti della questura di Salerno a conclusione dell'attività di identificazione coordinata dall'ufficio immigrazione è emerso che tra i migranti soccorsi in mare nel Mediterraneo vi erano anche sei soggetti tunisini su cui pesava un provvedimento di espulsione che ne vietava il reingresso in Italia, ragione per la quale sono stati arrestati e rispediti nel loro paese. Cinque dei sei arrestati sono stati condotti presso il centro di permanenza temporanea per i rimpratri di Gradisca di Sonzo con la collaborazione del personale della Guardia di Finanza. Per tutti gli altri migranti sono scattate immediatamente le procedure di accoglienza e controllo. Per 14 cittadini stranieri, sempre tunisini, è stato emesso un provvedimento di respingimento e sono stati invitati a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Altri dieci immigrati sono stati invece accompagnati direttamente presso il centro di detenzione per i rimpatri di Roma. Ancora una volta, grazie al lavoro di indagine della questura di Salerno e degli agenti della squadra mobile, anche per questo 31esimo sbarco si è giunti all'individuazione in brevissimo tempo di presunti scafisti, così come è accaduto anche per il precedente attracco del mese di agosto della nave ONG tedesca CIA4, dove sono stati identificati due presunti scafisti, un cittadino egiziano di 47 anni e un palestinese di 34, che avevano organizzato il viaggio verso l'Italia di almeno 38 dei 114 migranti recuperati in mare. Grazie a tutti.